No, per fortuna di questo premio, la fortuna per loro, lasceranno la scuola media e si avverranno in un futuro di nuovo sostegno. Quello che ascolterà da oggi più o meno è un frutto di questi tre anni di lavoro, molto discontinue, ma ormai la scuola è discontinua, insomma, sullo studio, c'è l'euro, e i pezzi ve li presenterà direttamente Demetra di volta in volta. Prego. Allora, il primo pezzo è buono, meglio due. Allora, il primo pezzo è buono, Noi, il primo pezzo è buono, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti